E Disney Plus starebbe sviluppando una bellissima serie incentrata su Wolverine. Abbiamo anche aggiornamenti fichissimi sullo stato delle riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Magnus. Strange senza la barba? Ma come mai? Vi ricordo che questo video qui è sponsorizzato da Epicly Shop, il sito per il merchandise dei veri Skrull, per ottenere un bello sconto del 5% all'acquisto Digita Aven di Avengers. Lo so che vuoi un incentivo. Link in descrizione. Sigla! Io sono Likes. The Channel. Diverse settimane fa, varie voci suggerivano che Doctor Strange in the Multiverse of Magnus era vicino alla fine delle riprese. Ora ci confermano che siamo nelle settimane finali, o nella settimana finale, per questo sequel. La scorsa, però. E non è colpa mia se ci sono così tanti trappelamenti di Spider-Man e i video qua devono fare la fila. Al lavoro, gente! Di questo film è trappelato pochissimo o niente, e per di più, ragazzi, non abbiamo avuto modo di vedere Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen nei loro rispettivi ruoli a spalleggiarsi oppure a scannarsi perché non si sa ancora. Soltanto in questi giorni una misera immagine di Cumberbatch senza la barba. Uno Strange rasato. Follia pura, vero? È stato il signor presidente Kevin Feige a confermare che siamo vicinissimi al completamento delle riprese di questo sequel. In una recente intervista con i principali attori e creativi coinvolti nella serie The Falcon and the Winter Soldier, Feige ha dato questa notizia facendo una menzione molto speciale alla Olsen. Lui ha accennato al fatto che questi mesi sono stati veramente intensi per lei a causa di tutte le riprese che ha dovuto affrontare. Sono qui, a Londra, sul set di Doctor Strange 2 per la nostra ultima settimana. Elizabeth Olsen ha lavorato senza sosta fin dalla fine di WandaVision tuffandosi guarda direttamente in Doctor Strange 2. Il pubblico ora sta scoprendo che le serie Marvel su Disney Plus sono produzioni di serie A importanti e colossali quanto i film. E così intendiamo fare avanti e indietro tra serie e film. La mia domanda ora è visto anche il trailer rilasciato di Shang-Chi una ficata secondo me. La mia domanda è quando avremo il nostro assaggino di Multiverse of Magnus? O almeno un piccolo sguardo al film? Niente trapelato su questo film e pensateci quelli che hanno lavorato dietro le quinte sono dei veri professionisti. Ma pazienza ragazzi non c'è ancora la campagna promozionale attiva per questo film quindi sembra che dovremmo aspettare per avere un assaggino di Strange. Ma perché mai si è tagliato la barba Benedict Cumberbatch? Al momento è molto difficile delineare perché mai Benedict Cumberbatch non ha la sua barba Strange la sua barba magica la sua barba stregata la sua barba suprema ma è possibile molto possibile che alcune scene del film contengano dei flashback della sua vita precedente quella in cui era un semplice chirurgo molto 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 presuntuoso e che non mi sorprende parliamo di un film che ha come titolo Multiverso della Follia e quindi ecco forse ad un certo punto sullo schermo appariranno due Strange o di più ed il modo più semplice per differenziarli sarà proprio la barba una scelta semplice vi ricordo che Doctor Strange in the Multiverse of Magnus uscirà nelle sale il 25 marzo 2022 o di no volendo o è il 24 se avete in Germania ora parliamo di Wolverine per ora non sappiamo assolutamente quando vedremo quell'uomo nel Marvel Cinematic Universe ma probabilmente introdurranno il concetto dei mutanti lentamente prima di introdurre qualsiasi altro uomo X voi ve lo ricordate il 2008? si sono vecchio però hai i train è bello i cinecomics erano sulla cresta dell'onda non si parlava d'altro grazie alla trilogia di Sam Raimi e ai sopravvalutatissimi mutanti quelli della Fox tra l'altro hanno potuto approfittare del fatto che non esisteva una grandissima concorrenza film come Iron Man a malapena davano i primi passi nell'industria niente Capitan America e Thor figuriamoci vabbè il primo capitolo di Thor poteva pure esistere perché tanto non è che uno spettacolo il pubblico a dire il vero non aveva nulla in mano con cui confrontare ste produzioni per questo penso che la saga di Xavier era un tantino sopravvalutata e in mano alla Fox ancora di più che in quegli anni senza una misera linea guida hanno voluto raccontare le storie alla cacchio di cane non a caso il casino combinato dopo dieci anni è stata una cosa proprio da distruggere e cominciare da zero una bruttissima conclusione non sapevano proprio da dove partire e dove finire curiosamente ora i Marvel Studios dopo così tantissimi anni di produzioni hanno questo problema per il rilancio di Wolverine l'uomo barbuto io lo voglio con più barba ok President? per non parlare del fatto che dopo che verrà scelto il nuovo attore tutti lo paragoneranno alla versione sopravvalutatissima di Hugh Jackman stavo per dirlo in italiano stavo per dire Hugh Jackman e per un soffio mi sto italianizzando eh piano piano prima dicevo Hulk ora dico Hulk sono stato bravo sono stato bravo vero Capo Bianco tu metti like e tu metti iscrivi e io mangio tutte le H che tu vuoi e parlo come te Capo non leggo il copione il copione legge me il piano attuale dei Marvel Studios è di rendere Wolverine molto più simile a quello dei fumetti ragazzi sigaro cubano peli nel senso barba una personalità molto acida e costume inclusi questo significherebbe rendere il personaggio un pochino più oscuro un personaggio più oscuro e più maturo in una produzione Disney è tutto da vedere ragazzi la cosa comporterebbe farlo bere e farlo fumare come uno scaricatore di porto la cosa curiosa è che tutte le indiscrezioni su internet indicano che la Marvel vorrebbe questo attore molto più giovane del precedente per il ruolo o almeno molto più giovane di quanto lo era Hugh Jackman negli anni 2000 Hugh Jackman all'epoca aveva 32 anni e col tempo ragazzi diciamo che abbiamo visto come il suo atteggiamento da bestia si è appassito con gli anni fino all'arrivo di Logan infatti quel film alla Hall of Logan è stato perfetto per quel tipo di attore perfetto lui è patrimonio nazionale si vocifera da giorni su una possibile grandissima novità su Wolverine nel mondo dei cinecomics questa è un'indiscrezione da prendere con le pinze come sempre a cosa mi riferisco ragazzi i Marvel Studios starebbero sviluppando una serie dedicata tutta quanta a Wolverine ovviamente per Disney Plus si dice che sarebbe un'antologia basata sul personaggio non ti prego che sarebbe un'antologia basata sul personaggio in modo che ogni stagione di Wolverine si concentri su una storia specifica oh per carità per carità molto simile all'idea di questa serie qua American Horror Story io di American Horror Story ho visto soltanto la prima stagione e metà della seconda mi ricordo che è stato moltissimo moltissimo tempo fa perché a me le serie che sono autoconclusive che hanno le stagioni indipendenti proprio non mi attirano non mi agganciano non c'è questo aggancio in American Horror Story c'è una trama per stagione e poi viene riavviata la storia ogni volta e si generano così stagioni che non c'entrano niente l'una con l'altra e proprio la cosa che mi attira di più della Marvel e sono i collegamenti a me dispiace però io spero che questa sia una cavolata grande come una casa e che venga dimenticato presto questo concetto su Disney Plus la serie sarebbe in fase di scrittura non ci sono ancora nomi importanti associati al Wolverine di Disney Plus né attore principale né cast né showrunner né regista né niente ma speriamo proprio di no guarda cosa? ti stai chiedendo quando debutterà questo personaggio? non lo so non lo so si dice dappertutto che gli X-Men verranno adagiati lentamente nell'MCU che sarà una cosa graduale settimane fa potevamo vedere personaggi come quello di Wolverine con l'introduzione del multiverso ma si sono fatti scappare quella bellissima opportunità in VandaVision Quicksilver avete presente? tutto un inganno quindi lo sapete già ragazzi secondo questa voce che gira una serie antologica di Wolverine è in sviluppo per Disney vada come parli sarebbe in sviluppo per Disney Plus secondo i commenti che girano la storia seguirà Logan attraverso i vari punti della sua lunga 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 vita con una primissima stagione che si concentrerà su quella volta in cui hanno fatto gli sperimenti su Wolverine donandogli lo scheletro in Adamantium che lo caratterizza la serie permetterà alla Marvel di introdurre finalmente il personaggio nell'MCU dando la possibilità di esplorare la vasta storia di Wolverine senza influenzare qualsiasi ruolo che avrebbe in un film degli X-Men futuro a me sembra lasciatemelo dire un grandissimo sbaglio o almeno così ho capito io speriamo sia solo una grandissima gazzata perché io personalmente non voglio un casino come quello della saga degli X-Men degli anni passati no 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 voi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate se vi piace l'idea a me no a me piacciono le cose belle organizzate con la continuità i legami i sigari cubani perché questo che a me piace dei film a Marvel che sono interconnessi proprio come il tuo like e la tua iscrizione a questo canale è tutto per oggi se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di lasciarmi un like e soprattutto se non ti sei ancora unito alla famiglia di Skrull più grande e grossa di YouTube Italia questo è il momento giusto per farlo attiva la campanella per rimanere aggiornato se ti iscrivi in questo preciso istante arriverà a casa tua un sigaro cubano di qualità premium che cosa? sei minorenne e i tuoi non ti lasciano sfumazzare di qua e di là non fa niente perché il sigaro non è mai esistito ciao